Un mese fa esatto alle 20.53 uno sconosciuto incappucciato e avvolto coperto con una tannica di combustibile tra le mani si è avvicinato alla porta della sede di Fano TV mentre stava andando in onda l'edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Dopo aver cosparso della sostanza l'ingresso ed essersi assicurato che il liquido penetrasse all'interno della sede gli ha dato fuoco dopo aver creato una miccia di qualche metro per non subire il ritorno di Fiamma del Rogo. Grazie alla presenza di tre ragazzi in zona che a cortisi delle fiamme hanno avvisato subito polizie e vigili del fuoco i danni alla struttura sono stati limitati. Per questo gesto sono tuttora in corso le indagini della polizia ma ad oggi l'esecutore materiale del gesto e le sue motivazioni rimangono ancora avvolti nel mistero.